Noi abbiamo avuto due dati fondamentali che ha fornito recentemente l'Istat, il primo è appunto questo dato sull'occupazione e il secondo è l'indicatore sulle esportazioni. Per quanto riguarda l'occupazione noi abbiamo avuto 9.000 occupati in meno, non è una cifra direi da crollo, è una caduta significativa che è in linea oltretutto con la media nazionale, siamo intorno almeno 1,9%. Ecco il punto che va sottolineato è che gran parte di questa caduta dipende dal fatto che c'è stato un effetto scoraggiamento per cui molti non si sono presentati sul mercato del lavoro e questo in un certo senso ha fatto sì che il tasso di disoccupazione diminuisce. Molti si chiedono ma quali sono i settori maggiormente colpiti? Ecco varia da zona a zona, per esempio nella provincia di Chieti direi la caduta più significativa è nel settore industriale, nella provincia di Pescara invece nel settore del terziario, per cui c'è un'articolazione da provincia a provincia che riesce difficile poter dare un'indicazione precisa. Però ecco nella provincia di Chieti, insisto Chieti per il ruolo che Chieti ricopre nell'ambito industriale, il crollo delle industrie è intorno al 10% come occupati, mentre nelle altre province si attesta intorno allo 0,8%, l'1%. Ecco io penso che noi siamo di fronte a una situazione che ancora non è esplosa forse in tutte le sue manifestazioni. Molto dipenderà quando questi provvedimenti che mi auguro siano sempre più consistenti cesseranno, perché cominceranno le grandi contraddizioni tra imprese sane, imprese solvibili o imprese che sono già fuori dal mercato e si reggono grazie a questi contributi piuttosto modesti. Quando succedono queste cose, forse è importante fin da questo momento, visto che si parla molto di provvedimenti europei, mi riferisco next generation ovviamente, cominciare già a delineare il percorso che questa regione intende compiere per il futuro, perché chiaramente la crisi, più che crisi direi, la stagnazione di questa regione è prima della pandemia. Io ho visto l'ultimo dato sul prodotto interno lordo è di meno 0,3% prima della pandemia, cioè mi riferisco al 2019. Quindi ecco, cominciare a pensare come costruire il futuro di questa regione è fondamentale, perché se noi riproponiamo lo stesso modello che abbiamo avuto in passato, molto lavoro sarà spiazzato da quelli che sono i grandi segnali che provengono dallo scenario economico mondiale.